Hai mai sentito parlare di Europe Direct? La Commissione europea ha attivato nei 27 paesi dell'Unione europea 424 centri di informazione. Uno di questi è Europe Direct Trentino, con sedi a Trento presso la provincia autonoma di Trento, che vorremmo farti conoscere. Che cosa facciamo? La nostra mission è informare e comunicare l'Unione europea ai cittadini. Siamo l'Unione europea a portata di mano. Ti forniamo i documenti ufficiali, ti facciamo conoscere le istituzioni, ti raccontiamo la storia dell'integrazione europea, ti aiutiamo a capire quali sono le opportunità offerte dall'Unione europea. Come lavoriamo? Offriamo consulenza e risposte a domande sulle istituzioni europee, sulle politiche e le leggi europee, sulle possibilità di finanziamento, sui tuoi diritti e opportunità. Promuoviamo inoltre il dibattito pubblico a livello locale, facendo conoscere le azioni dell'Unione europea nella nostra provincia. Fungiamo da ponte tra le istituzioni europee e la nostra realtà, organizzando eventi e webinar tematici. Lo sapevi che lavoriamo anche con le scuole? Facciamo attività di informazione e offriamo in presenza e a distanza la nostra attività gratuita dedicata alle scuole, chiamata Laboratorio Europa. Parliamo con i ragazzi dell'Unione europea nella nostra vita quotidiana dell'ambiente, della tutela della salute, della tutela dei consumatori, delle opportunità offerte dall'Unione europea, dei confini e delle frontiere nel nostro continente. Alcuni interventi vengono addirittura proposti in lingua tedesca o inglese. Dove ci potete trovare? Vi aspettiamo presso i nostri uffici e seguiteci sui nostri canali social, sul nostro sito web, su Facebook, Instagram e Twitter.